Allora ripartiamo dalla Juventus Douglas Costa, questo è il nome che espressamente ha fatto Allegri non solo, partiamo dall'esterno offensivo poi andiamo anche sul centrocampo Sì, perché sono stati fatti passi avanti va detto per Douglas Costa del Bayern di Monaco ti dico che il giocatore chiede 7 milioni di euro 7 milioni a stagione, una richiesta molto molto importante il Bayern dal punto di vista del cartellino ha sparato molto in alto 40 milioni di euro più bonus è chiaro che la Juventus come in altri casi sta cercando di lavorare per abbassare un po' le richieste del club per abbassare anche un po' le pretese da parte del giocatore i contatti con la gente di Douglas Costa sono continui non dico tutti i giorni ma poco ci manca sono contatti importanti, sono contatti profigui quindi dobbiamo tenere lui come primo nome per l'esterno d'attacco della Juventus senza mai sottovalutare anche le altre piste che poi eventualmente metteranno la freccia o no a seconda delle difficoltà che si incontreranno per Costa e allora una su tutte è sicuramente quella di Federico Bernardeschi della Fiorentina anche qui la trattativa non sarà facile qualora ci si metterà al tavolo primo perché c'è Fiorentina e Juventus e sapete bene insomma la storia del calcio parla chiaro e secondo perché la Fiorentina è forte dal canto suo del fatto che il giocatore abbia ancora due anni di contratto e che quindi debba rispettarli il debba nel, possiamo mettere tra virgolette ecco nel calcio percato poi esatto lascia il tempo che trova Juve la ricerca di centimetri, muscoli, leve e lunghe e quindi Nzonzi è il nome per il centrocampo sì 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 l'avevamo descritto così no? l'identikit del centrocampista che voleva Massimiliano Allegri perché poi l'ultima stagione meravigliosa della Juventus ha forse evidenziato questa leggera pecca perché Chedira e Piani ci sono stati grandissimi è vero però poi dietro Marchisio non era mai al 100% complice all'infortunio poi c'erano le minasture rare allora serviva comunque anche un giocatore di grande forza fisica di grande qualità e di grande spessore internazionale ed ecco che Nzonzi del Siviglia risponde a questi identikit non è per il momento un viaggio a Siviglia e Spagna da parte dei dirigenti della Juventus è sicuramente il primo nome del centrocampo c'è una clausola da 40 milioni di euro adesso sarà la Juventus valutare se pagare direttamente la clausola o no oppure iniziare una vera e propria trattativa con il Siviglia l'alternativa anche qui perché la Juventus lavora sempre su più fronti è Fabinho del Monaco Senti i tempi dell'eventuale chiusura della trattativa tra la Juve e Douglas Costa? Non sono brevi si sono riaccesi diciamo nella giornata di ieri quando a Milano Giovanni Branchini che comunque tiene i contatti è consulente del Bayern Monaco e ha fatto operazioni tra la Juve e il Bayern le ultime, le recenti a partire da Vidal e Coman praticamente ha ripreso a riallacciare la trattativa c'è la gente di Douglas Costa che deve incontrare la Juventus perché la Juve vuole capire quanto il giocatore a fronte di altre proposte che ha in Spagna hanno scritto che c'è anche il Barcellona a lui interessato per esempio in Francia che il Paris Saint Germain sta seguendo gli sviluppi delle cose la Juve vuole capire attraverso l'incontro imminente con la gente quanto può spingersi nella trattativa col Bayern che per il momento chiede 45-50 milioni di euro la Juve lo valuta meno ricordiamo che la Juve ha bloccato anche Keita e questa cosa cosa vuol dire? Keita può essere o un'alternativa oppure la doppia scelta del prendere due esterni se sarà ceduto quadrado ma Keita sta animando molto il mercato perché abbiamo visto questa mattina sulle pagine di Tutto Sport delle dichiarazioni di Glitare di S della Lazio che ha accusato la Juve di scorrettezza per non aver parlato con loro ma aver contattato direttamente il giocatore e sostenendo che ci sono tre club che invece si sono informati con la Lazio arrivando ad offrire 30 milioni ecco la Juve sapendo che Keita in scadenza come Biglia nel 2018 aveva fatto delle mosse sui 15 ma le due società Lazio e Juve non hanno rapporti di mercato sullo sfondo c'è anche Bernardeschi qui è una partita ancora più lunga e ci sarà bisogno di giorni e di settimane Bernardeschi che insomma è conteso da dalla Juve e dall'Inter in verità però con la Fiorentina che per il momento non ha dato delle aperture sia sulla valutazione si parla almeno di 50 milioni sia sulla volontà di trattare con la Juve l'agente del giocatore e l'avvocato Bozzo Bernardeschi tra Juve e Inter dal punto di vista progetto tecnico e dalle garanzie che ha avuto preferirebbe la Juve però questa è una cosa molto dura tra l'altro non ha ancora ufficializzato alla Fiorentina la sua volontà di non rinnovare adesso è impegnato con l'Under 21 quindi rischia di restare inghiottito dalle mosse che fanno poi le altre due squadre perché l'Inter è vero che per il momento fino a quando non si stema il fair play finanziario sostanzialmente non può fare operazioni in entrata la Juve non può trattarlo perché la Fiorentina non tratta con la Juve e quindi su questo giocatore c'è un po' di confusione ecco Senti Scesni è ormai diciamo certo che sarà l'erede di Buffon? Sì sì è certo la Juve deve solo trovare definire l'operazione con l'Arsenal che però non se ne fa nulla del portiere in scadenza nel 2018 non se ne fa nulla non perché non è bravo ma perché ha altri progetti ma lui ha già detto di sì alla Juve e a questo proposito ieri circolavano delle dichiarazioni di Buffon quasi di benvenuto dicendo che la Juve è ben affatto a fare questa scelta e che Scesni è stato il miglior portiere nella scorsa stagione quindi Scesni ha scelto la Juve Da casa Da casa c'è Peppe che fa questa domanda molto schematica Di Maria e Juve? No la mia risposta è ancora più schematica Di Maria e Juve no Guarda su Di Maria se ne è parlata anche ieri a margine dell'incontro che ha avuto il direttore sportivo del Paris Saint Germain con l'Inter con Sabatini sì in verità lì poi era stata una chiacchiera conoscitiva perché il Paris Saint Germain ha parlato di giocatori che sono in uscita per esempio uno è Lucas Moura che è un esterno ma non ha parlato assolutamente di Di Maria che considerano incelibile e quindi la mia risposta era secca no? adesso l'abbiamo un po' motivata abbiamo visto che la Juve sta lavorando su piste in questo momento più percorribile è ovvio che fino a quando una società come la Juve non avrà fatto un'operazione sugli esterni i nomi si rincorreranno in Inghilterra scrivono anche di un interessamento della Juve per Marez dell'Eister però non abbiamo riscontro in questo senso un'altra domanda stefi Giovanni dice Verratti alla Juventus che probabilità ha? è zero perché li bocci tutti Paolo sì però rispondo con delle certezze in questo momento il mercato è in evoluzione proprio ieri abbiamo raccontato e documentato l'incontro dell'agente di Verratti Donato di Campli in un albergo di Milano un'ora di incontro col DS questo Enrique Antero del Paris Saint-Germain che ieri praticamente ha incontrato tutti e ha fatto questo tour de force e la risposta è stata negativa era già stata negativa quando Verratti prima di partire per le vacanze aveva chiesto i suoi dirigenti di essere ceduto ci sarà un altro tentativo fatto da Verratti personalmente ma non per tornare in Italia per andare al Barcellona che ha pronta un'offerta da 100 milioni di euro da qui il mio no sulla Juve un'altra? Dries Mertens è sempre Giovanni che chiede se è vero l'interesse della Juventus per lui no perché comunque ha rinnovato il contratto di recente col Napoli inserendo una clausola secondo me la chiave di lettura di Mertens è un'altra stagione col Napoli e poi l'anno prossimo sul mercato anche per ringiovanire la rosa del Napoli senti ti faccio una domanda perché abbiamo parlato di Juve ma vorrei se ci sono aggiornamenti li vogliono da casa soprattutto su un Zonzi su un Zonzi c'è qualche segnale ma la Juve è molto sorniona in questa fase vale a dire è abbastanza sicura di avere l'aggradimento del giocatore che peraltro aveva già trattato a gennaio la scorsa estate scusami e poi a gennaio si era informata ma adesso sta rispettando dei tempi fisiologici per fare una trattativa ed abbassare la clausola rescissoria di Zonzi che è di 40 milioni che era stata alzata l'estate scorsa quando questo centrocampista aveva rinnovato il suo contratto con la Siviglia fino al 2020 e quindi è una trattativa da seguire perché è un profilo espressamente chiesto da Allegri nel momento in cui ha deciso nella prossima stagione di partire con un 4-2-3-1 e quindi di aver bisogno non un interno di centrocampo quindi una mezzala ma una bella diga come questo giocatore a proposito di Juve Steffi un'ultima domanda riuscirà la Juve a vendere Sturaro le mina e Rincon poi c'è anche una domanda personale per Paolo se lui vuole attenzione alla domanda personale Musi shampoo e balsamo per la barba ecco partiamo dal fondo beh sì vorrei vedere insomma se no sarebbe un po' antigenico e per quanto riguarda mi sono persa la prima parte la cosa della barba mi ha coinvolto mi ha coinvolto le mina e Rincon sì sono tre giocatori sul mercato in uscita però non sono ancora state individuate le squadre io credo le mina in premier Sturaro possibile anche mercato italiano ma in questo momento non ci sono certezze la certezza è allora ripartiamo dalla Juventus noi Douglas Costa questo è il nome che espressamente ha fatto Allegri non solo partiamo dall'esterno offensivo poi andiamo anche sul centrocampo sì perché sono stati fatti passi avanti va detto per Douglas Costa del Bayern di Monaco ti dico che il giocatore chiede 7 milioni di euro 7 milioni grazie a tutti